cari amici rieccoci qui buon pranzo sono quasi le 13 in questo video di metà giornata parliamo dall'amichevole precampionato non so se è stata l'ultimo per la juventus di andrea piruo che comunque si è conclusa non molti minuti fa contro il novara la juve ha dato una secca manita al novara nel primo tempo rete al vendesimo di cristiano ronaldo nel secondo per la juve girandola di campi piazza bentangur douglas costa artur demiral buffon pellegrini rugani la manna e gonzales per gli ospiti gli altri gol della juve arrivati al 56 esu con ramsey al 66 esu con piazza e al 91esimo e 93esimo doppietta di portanova quindi la juve a questo punto si prepara tra sette giorni al debutto ufficiale nel nuovo campionato di serie a contro la samba d'ora domenica prossima alle ore 20 e 45 all'allianz juventus stadium quindi penso sarete saranno felici tifosi juventini ora andando gustiamoci prima il pranzo poi moto gp formula 1 insomma ce n'è per tutti i gusti quindi ci vediamo dopo con i video moto gp e formula 1 e poi stasera alle 19 c'è anche la gara di nba che potrebbe in caso di vittoria dei clippers dare la il famoso derby di los angeles nelle semifinali playoffs dell'nba che anche l'nba come tante discipline si è protratta e quindi la stagione 2020 per l'nba ancora in gorsa con i playoffs comunque abbiamo detto sicuro i video sul moto gp formula 1 vediamo vediamo un po penso al massimo lo faccio il video sulla partita in b e ma l'immagine video copertina la metto domani bene grazie a voi tutti buon proseguimento manteniamoci alla tavola a mangiare perché ci dobbiamo contenere bene per poi emozionarci speriamo tanto con moto gp e formula 1 quindi dalla linea allo studio ribadendo l'amichevole precampionato la juventus di andrea pierlo parte il novara 5 a 0 un gol nel primo tempo di ronaldo e a 4 nel secondo tempo con girandola di campo da una parte dall'altra grazie a voi tutti alla prossima ciao